Sì, direi di sì. C'è la luna piena. In qualunque parte del mondo ti trovi, non è mai più grande del pollice. Ciao, pa. Ti voglio presentare una persona. Mi piace tuo padre. Si vede che ti vuole bene, anche se tu non lo vedi. Sembra che chiunque incontri abbia paura di te. Hanno paura di come era una volta. Ma che fa? Fermo! Non ho paura di te, Gianna. Ma io ho paura di te. Devo ripartire. E lo dici così? E dove ti mandano? Nel bel mezzo della guerra? Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Caro John, parlami di tutto. Scrivimi ogni cosa. In questo modo staremo sempre insieme, anche se non siamo insieme. Stasera c'è la luna piena. Mi fa pensare a te così lontana. Lettera numero 8. Lettera numero 33. Caro John. Mi manchi da morire. Mi chiedo il permesso di prolungare il servizio. Hai deciso di tornare lì. L'unica cosa che so è che voglio stare qui con te tutto il tempo che posso. Tante cose cambiano in un anno. Stanotte sei qui con me. L'unica cosa che so è qui con te. Grazie a tutti.